Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa quinta puntata di Beluso Inter News. Oggi parleremo di Zagnolo, Bamba, Cioameni, Icardi e Beresischi. Zagnolo, giovanissimo centrocampista della società nero azzurra. Il Sassuolo sembra essere fortemente interessato a questo giocatore, e difatti l'Inter offre 6 milioni circa, con diritto di ricompro. Bamba, classe 96 del Sant'Etienne. Inter sembrerebbe molto interessato a questo giocatore, anche se la richiesta di 5 milioni di commissioni avrebbe frenato la società nero azzurra. Anche su Cioameni, l'Inter sembra aver buttato l'occhio. Il centrocampista di anno 2000 appartenente al Bordeaux. Icardi, sempre più vicino il rinnovo del contratto per il capitano Mauro Icardi fino all'anno 2023, con l'ingaggio che si aggira intorno a 3,3 milioni più bonus e clausola recistore di 150 milioni. Infine, Beresischi. Attenzione, potrebbe trattarsi di un'altra operazione alla screer? Beresischi, polacco di classe 2000 della Sampdoria. L'Inter sembra fortemente interessato a questo giocatore, difatti inserirebbe eventualmente in trattativa ed erre. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Peluso Inter News. A domani ragazzi, un bacione e sempre porzente.